La chiesa di Canosa si è stretta intorno alla figura di padre Antonio Losito, il sacerdote e redentorista morto cent'anni fa in odore di santità. Nel 2015 è stato riconosciuto venerabile, ora si attende il compimento di un miracolo per completare il percorso verso la santità. Al termine della celebrazione nella concattedrale di Canosa è stato benedetto il nuovo sepolcro con la reposizione dei suoi resti mortali. La sua è una figura un po' atipica nel senso che ha vissuto in un periodo di particolare turbolenza per la nazione, per la società, però ha saputo non soltanto con la sua santità accattivarsi l'affetto, la stima, la fiducia dei canosini, ma ha dato un messaggio che mi sembra attualissimo oggi, soprattutto con la sua insistenza sulla vita spirituale, sulla fedeltà a Cristo, sulla fedeltà al Vangelo, sulla vita di pietà che deve supportare questa crescita nella fedeltà battesimale. La procedura canonica adesso è giunta al suo traguardo, la Chiesa si è già espressa alcuni anni fa con il decreto di venerabilità attraverso proprio questa ufficializzazione del giudizio della Chiesa da parte di Papa Francesco. E quindi ora tutto lo studio della fase umana e quindi tutto ciò che la Chiesa richiede per queste indagini è stata sufficientemente raggiunta. Adesso stiamo in questa fase di promozione della sua figura, del suo messaggio e di cercare di promuoverne la conoscenza. C'è una grande venerazione per questa figura. Noi ci mettiamo in questo solco di preghiera, di fedeltà, di amore a questo santuomo e abbiamo il compito, il dovere e la gioia di esortare, di accompagnare la comunità a conoscere sempre di più questa figura, a diffondere il culto della sua persona, visto che la Chiesa ci ha detto che lo possiamo e lo dobbiamo venerare. E a chiedere anche, umilmente, senza pretesa, ma a chiedere con fiducia, un segno dal cielo che ci dia, diciamo, l'imprimatur divino. Chi era realmente Padre Losito? Un sacerdote, oggi direbbe Papa Francesco, in uscita, cioè che ha evangelizzato le periferie della città, gli ultimi, i poveri, le persone semplici, proprio con il carisma di Padre Alfonso, di Sant'Alfonso, che è una persona molto vicina alla gente, alla gente umile, semplice, ed è proprio la gente semplice, umile che lo ricorda, con i nonni che l'hanno ricordato, portato sempre nella mente, raccontato ai nipoti, ai figli, le vicende di questo uomo.